Hermes fu un maestro tutto tondo, oltre che per la professione, chiaramente come insegnante, fu maestro d'arte, maestro di cultura, maestro di vita, maestro anche come si presentava, insomma, veramente una persona elegante nei modi, nella maniera e nel presentarsi. Un uomo gentile e di classe, così lo descrivono gli amici della carnevalesca, il vecchio direttivo e l'ex presidente Luciano Cecchini in lutto per la triste notizia. È deceduto ieri all'età di 94 anni Hermes Valentini, il più anziano dei maestri carristi del carnevale di Fano, autore di decine di opere piccoli e giganti di carta pesta che hanno fatto la storia dell'evento più importante della città. Al suo carro profumo di donna del 1988 fu dedicato uno dei due francobolli fanesi, infatti dopo la fontana di piazza 20 Settembre, il carro di Valentini, con le maschere utilizzate per alcune scene del film Stanno tutti bene, di Giuseppe Tornatore, fu scelto per il francobollo del 2013. Nel momento in cui ci fu richiesta dal Ministero delle Poste la redazione di un francobollo a ricordo del carnevale. Nell'elaborazione di tale progetto, in pratica dopo aver insieme al Consiglio elaborato, visto, preso in esame tutti i vari carri e composizioni, eccetera, Il nostro sguardo si fermò sulle maschere che hanno rappresentato per il carnevale per un periodo molto lungo, tra l'altro, devo dire, oltre ad essere il manifesto del film molto famoso. Le maschere girarono parecchio per l'Italia, arrivavano e partivano dai capannoni perché in qualsiasi manifestazione di promozione e di presentazione del carnevale, le maschere erano un emblema rappresentativo del carnevale dell'epoca. Chiaramente Hermes era un tipo abbastanza preciso, meticoloso e quindi al giorno predisponevamo un tipo di composizione, poi il mattino dopo mi chiamava e dice Giorgio, guarda, mi sa che è meglio forse metterlo così. Ecco così, mi piace ricordarlo in questo momento elaborativo. Questi francobolli vennero anche donati? Sì, questi francobolli durante una delle sfilate del 2013 erano stati donati e addirittura avevamo un ufficio, un collegamento con un ufficio postale che annullava il francobollo. E vi devo dire che tuttora vengono richiesti perché io già quest'inverno, siccome ne avevo diversi a casa, li ho consegnati ai parenti e amici che si trovano in Canada perché volevano avere un ricordo di questo nostro carnevale e guarda caso proprio con il francobollo. Domani alle 10.30 la città di Fano darà l'ultimo saluto al maestro carrista nella chiesa del Vallato. Hermes, vi saluto caramente, ti saluto, sei stato un grande. Ciao.